Abbiamo approfittato della presenza dell'occupazione da parte delle mamme del primo circolo didattico al plesso Rodari per visitare questa scuola o meglio per raccogliere la denuncia di alcuni genitori dei piccoli bambini della scuola Rodari. Vedete che cosa c'è qui all'interno della scuola? Una strumentazione da falegnameria che è stata lasciata qui abbandonata e poi qui giù c'è la strada in condizioni vergognose, forse vergognose di dire poco. Anche lì ci sono delle attrezzature da falegnameria che non si sa cosa possono farci lì e questa strada che state vedendo, questa discesa si allaga completamente per quasi un metro di altezza ci dicono qui e l'acqua va ad incalanarsi sotto la scuola, sotto l'edificio scolastico dove esistono appunto questi pilastri dell'istituto stesso. Non poche polemiche ha suscitato negli anni il fatto che l'edificio sia stato progettato e quindi costruito sotto il livello stradale, motivo questo degli allagamenti che per il momento pare siano stati fronteggiati con l'ausilio di una pompa sommersa ma che non fa dormire sonni tranquilli ai genitori dei piccoli in caso di forti piogge. Sicurezza proprio al limite, quasi zero, guardate questi avvallamenti all'interno della scuola, c'è depositato di tutto, rappresenta un vero e proprio deposito, quest'area, questo spazio antistante della scuola stessa, questi sono dei cestini abbandonati ormai in disuso, è tutto all'interno di un edificio, di una scuola, all'interno di una scuola dove qui dietro le finestre tra l'altro non ve li mostreremo, ci sono dei piccoli bambini che frequentano le scuole materne di questa scuola, dall'altro lato invece i bambini elementari che non possono fruire di una palestra, attività di educazione fisica completamente negata che crede di carenzi con la buona scuola e questa è la condizione di una delle scuole elementari di Pagani. In questo edificio di Piazza Sant'Alfonso oggi la popolazione scolastica è raddoppiata per l'arrivo degli studenti evacuati dal plesso Manzoni che si alternano con i loro coetanei della Rodari in turni mattutini e pomeridiani, insomma una situazione che si commenta da sola.